...di presentare... Lui! Lui! Silvio! Chi è? 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 Vogliamo presentare Silvio! Silvio! Vieni Silvio, eccoci qua! È lui! È lui! Ah, lui è Silvio! È lui! È lui! È lui! Buonasera Silvio! Allora, Silvio ci canterà un mix, un mitre, si può dire mitre, un mitre di canzoni romane, 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 un mitre di canzoni romane. E allora, non ci resta altro che ascoltarlo, un apposo a Silvio! Silvio! È sempre spontaneo, un applauso! Grazie! 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 Un applauso! Grazie! Bravissimo Silvio! Molto, molto bene! Vieni! Grazie!